PEGI 18 Solo un attimino. Tranquillo. Non abbiamo certo impegni impellenti. Esatto, per l'appunto. Nessuno sa cosa sta succedendo e dobbiamo documentare tutto. Tu vuoi solo sapere cos'è successo quella notte. Oh, come sei misterioso, Jacob. Era un lavoro come un altro. La tipica missione di recupero e insabbiamento della Bellwether. Bellwether? Una compagnia militare privata. Tu non fai domande e loro non rispondono. Ma siamo caduti nell'imboscata di qualcosa. E ora quello lì non mi molla più. Come si chiama? Direi che abbiamo finito, Dev. Fan club dei vampiri in arrivo. C'è Gido! Attenzione! Occhi aperti. È sparito! Sogni d'oro. Non lo vedo! Non lo vedo! Era l'ultimo. Ehi! Oh! Avanti, cervello di gallina. No! Ci siamo. Vediamo di che si tratta. Oh! Oh! Sì! Grazie.